Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economy FWG, quello di cui parliamo questa e che è ritornato di assoluta attualità con l'insediamento del nuovo governo Meloni, un tema che peraltro ha fatto andare l'Italia un po' sulle montagne russe, parliamo del tetto al contante, dicevamo è tornato di stretta attualità proprio perché con l'insediamento del nuovo governo la nuova Premier, Giorgia Meloni, ha fatto chiaramente intendere che a questo tetto bisognerà mettere in mano un tetto che attualmente è a 2.000 euro e che dal 1 gennaio del 2023 avrebbe dovuto scendere a 1.000 euro da indicazione del governo precedente. Questo però molto probabilmente non succederà perché l'indicazione è quello di alzare questo tetto, la Lega spinge per arrivare fino a 10.000 euro, Fratelli d'Italia è un po' più cauto ma sicuramente le regole cambieranno. Come si rifletterà tutto questo sulla nostra economia? Beh insomma lo chiederemo agli ospiti che sono in studio questa sera per darci una mano, lasciamo fuori un po' la contesa politica, entriamo un po' nel concreto e nel dettaglio di quelli che sono insomma i riflessi di questa nuova operazione che per molti è legata anche all'evasione fiscale. Di questo parliamo appunto con gli ospiti, ve li presento subito, grazie, buonasera, benvenuto a Stefano Miani, professore ordinario di economia degli intermediari finanziari dell'Università di Udine. Buonasera. Grazie professore, benvenuta a Micaela Sette, presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Udine. Buonasera. E benvenuto anche a William Pezzetta, segretario generale della CGL del Friuli Venezia, Giulia. Buonasera. Allora ho accennato prima a quelle che sono state le parole di Giorgia Meloni proprio nell'insediamento, parole espresse al Senato, le ascoltiamo, partiamo da qui per capire anche quali sono le intenzioni del nuovo governo. Dunque in questi anni noi abbiamo assistito dal mio punto di vista a una discussione molto ideologica sul tema del tetto al contante. Collegando sempre il tema dell'utilizzo del denaro contante al fenomeno dell'evasione fiscale. Ora lo dirò con chiarezza. Non c'è correlazione tra intensità del limite del contante e la diffusione dell'economia sommersa. Ci sono Paesi in cui il limite non c'è e l'evasione fiscale è bassissima. Non siete d'accordo? No. Sono parole di Piercarlo Padoan, ministro dell'economia del governo Renzi e del governo Gentiloni. Dei governi PD. Sono parole di Piercarlo Padoan, del PD, sostenuti dal PD. E io sono d'accordo con il ministro del PD, Piercarlo Padoan. Anche perché, signori, vi dico altre due cose. Scusatemi, dico due cose che sono, diciamo, una di concorrenza e una tecnica. Strumenti di questo genere in un mercato come quello europeo funzionano se sono uguali per tutti. La nostra economia europea di riferimento, la Germania, non ha un tetto al contante. I nostri, la nazione, l'Austria che confina con noi, non ha un tetto al contante. In questo, ovviamente, schema, noi rischiamo un pochino, diciamo così, di non favorire la nostra competitività. Dopodiché, tema tecnico, tema tecnico. Tema tecnico è questo. L'unica moneta a corso legale in Italia e in Europa sono le banconote cartacee emesse dalla Banca Centrale Europea. La moneta elettronica non è moneta a corso legale, è una forma di moneta privata. Anche queste non sono parole mie, eh. Le potete trovare sul sito della Banca d'Italia. E non è un caso che proprio la Banca Centrale Europea abbia richiamato più volte i governi di sinistra sul tema del limite all'utilizzo del denaro contanto, che secondo la Banca Centrale Europea, europea penalizza proprio i più poveri. Per questo io confermo che metteremo mano al tetto al contante. E queste, insomma, erano le parole di Giorgia Meloni. Parto subito dal professor Miani per capire, insomma, un commento alle parole. Abbiamo sentito, insomma, pone la Premier, insomma, tanti temi su questa questione. Intanto la correlazione tra l'evasione fiscale e il contante. Partiamo da qui, magari. Ma diciamo che l'evasione fiscale può essere indirettamente favorita dalla possibilità di usare più facilmente il contante. Però non è che l'uso del contante automaticamente genere l'evasione fiscale. Quindi l'approccio per combattere l'evasione fiscale può essere di diverso tipo. Il tentativo di controllare la circolazione del contante probabilmente è un tentativo di supplire a carenze nei controlli di altro tipo. E a livello internazionale, soprattutto a livello europeo, le regole sul contante sono pensate con uno scopo ben diverso. Cioè quello di combattere la malavita, il riciclaggio, il terrorismo, anche a livello internazionale, soprattutto per combattere il terrorismo. Sono stati fatti accordi sui controlli relativi al contante. Ma non solo al contante, su tutto il sistema di pagamenti. Ecco, forse sulle parole che abbiamo appena sentito vi vorrei fare una precisazione tecnica. Cioè una cosa è la moneta. Ed è sicuramente vero che nei nostri paesi, quindi nell'eurozona, oggi l'unica moneta legale è l'euro, la banconota emessa dalla banca centrale. E quella cosiddetta moneta elettronica, in realtà molto spesso non è moneta, ma sono sistemi di pagamento, che è un concetto diverso. Il sistema di pagamento è un meccanismo che fa circolare la moneta. Per cui se lei fa un bonifico da una banca, usa sempre l'euro come moneta, solo che lo fa circuitandolo attraverso un canale bancario. Quindi nessuno parla di abolire le banconote. Quello che si parla è di canalizzare l'uso delle banconote attraverso dei sistemi. Qui si pone un problema, secondo me, serio, e forse è uno dei motivi, se vogliamo leggere in positivo, di questo tentativo di alzare il tetto. Dall'altro però c'è ovviamente l'impatto negativo che potrebbe derivare da un messaggio sbagliato, nel senso che se la percezione è che viene fatta per favorire l'evasione fiscale, è negativo. In positivo, io faccio questo ragionamento, non so quanto sia condivisibile, ma io non sono convinto. Cioè se noi obblighiamo a canalizzare la maggior parte delle transazioni, e se apro una parentesi, dal mio punto di vista mi viene naturale canalizzare perché è più comodo. Quindi non serve, nei miei confronti, obbligarmi, anzi cercherei di renderlo ancora più comodo. Però c'è un aspetto delicato, che in questo modo noi obblighiamo tutti ad avere un rapporto con la banca o con la posta, a pagare i sistemi per fare i bonifici, eccetera. Quindi c'è un'incoerenza tra rendere obbligatorio un percorso e il fatto che questo sia oneroso. Soprattutto, secondo me, qui magari la Presidente dei commercialisti può dire qualcosa di più specifico occupandosi di tematiche fiscali, è assurdo che uno Stato ti obblighi per un euro o per centomila euro, per quello che vuole, a canalizzare e che poi metta il bollo sulle transazioni, che è una roba veramente inconcepibile. Del resto il bollo c'è anche sulle transazioni in contanti. Quindi, allora, lo Stato dovrebbe essere credibile. Allora, se fa una regola, poi coerentemente dovrebbe farti dedurre le spese della carta di credito, le spese di gestione, quelle del conto corrente, o comunque farsene carico, convenzionarsi con il sistema perché siano ridotti all'osso. Un aspetto. Il secondo aspetto, che però oramai col tempo viene un po' superato, è quello della barriera tecnologica, perché un tempo si diceva magari qualcuno è sfavorito perché l'anziano non sa usare il telefonino per fare il pagamento piuttosto che la carta di credito. Però questo, insomma, lo stiamo abbastanza superando. Quindi io penso che in un paese normale non servirebbe a mettere l'obbligo perché uno ragiona sulla convenienza a farlo perché è più comodo. Però il regime fiscale dovrebbe essere coerente e favorire, non sfavorire l'utilizzo dei sistemi canalizzati. E anche questo è sicuramente un tema. Altro discorso, ma non credo che sia il tema di oggi, è di parlare invece delle vere monete digitali, che sono un altro discorso. No, ma dopo lo tocchiamo anche questo perché è un altro capitolo. Però c'entra molto. Può starci bene assieme. Insomma, la Presidente Sette chiedo, insomma, lo accennava anche il Professor Miani, insomma, un ragionamento su questo anche dal punto di vista dei commercialisti. voi avete molto a che fare con i vostri clienti e vi rendete anche conto che forse, non lo so, il limite di 1.000 euro al quale si andrebbe in conto se restassero le cose come questo da partire dal 1 gennaio del 2023, forse un limite troppo basso. Ecco, in che cosa sarebbe più utile alzarlo? Beh, innanzitutto diciamo che dal momento in cui è partita la discussione, quindi il 2002, rispetto a questo argomento, diciamo che il mondo è completamente cambiato. In quel momento sicuramente parlare di antiriciclaggio, di riordino un po' di tutto questo settore era importante, tanto che, insomma, il limite era molto più alto. Oggi diciamo che c'è più un'abitudine all'utilizzo, insomma, di paghamenti elettronici, visti anche come comodità. Purtroppo le normative, quando vengono fatte, vengono fatte per tutti, per i grandi e per i piccoli. Molte volte, sì, l'obiettivo sono i grandi, ma pagarne, insomma, le conseguenze in termini di procedure, negli utilizzi, sono i piccoli. Oggi come oggi, se rimane così, appunto, dal 1 gennaio il limite di 1.000 euro, beh, nella quotidianità delle imprese, ma anche dei cittadini, i 1.000 euro sono veramente molto, molto pochi. Diciamo che sono, mi ricollego un po' a quanto diceva il professor Miani, veramente ci pare che in alcuni casi ci dobbiamo sostituire ai mancati controlli da parte degli organi deputati, insomma, e quindi fare questi controlli pressanti sui limiti, appunto, del contante. Ricordo, per esempio, che alcuni anni fa, per far fronte a un utilizzo un po' esagerato, per esempio, delle schede carburante, no? Ecco, già all'epoca è stato inserito l'obbligo del pagamento di tutto il carburante da parte di tutte le aziende, grandi e piccole che fossero, tramite carte di credit, comunque, insomma, pagamenti tracciati e questo evidentemente aveva sì lo scopo di evitare un uso esagerato, insomma, di questi costi deducibili, ma alla fin fine andavamo a sostituirci a quelli che dovevano essere i controlli da parte di chi... Ecco, torno al limite che dovrebbe entrare in vigore al primo gennaio. Nella quotidianità dei piccoli imprenditori, quindi mi riferisco ai commercianti al minuto, agli artigiani, insomma, all'elettricista che va a casa del pensionato a fare un lavoro, insomma, mille euro sono veramente creare un grande un problema, insomma, quotidiano. Che questo non significa evasione fiscale, che se uno ti fa la fattura e paghi anche centomila euro, voglio dire, in contanti sempre la fattura hai o la ricevuta. dopo nasce il problema da dove arrivano insomma questi... Bisogna vedere anche da dove arrivano quei soldi e poi ci ricolleghiamo ai controlli di cui... Apriremo un argomento. lo apriamo subito dopo. Prima però volevo sentire anche pezzetta su questo, cioè come il sindacato, il vostro sindacato, in modo particolare la CGL in questo caso, vede questa operazione. Sì, io vorrei dire in premessa che comunque a prescindere secondo me c'è un percorso sociale e culturale che sempre di più andrà verso i pagamenti elettronici. Questo a prescindere dalle scelte che possa fare il governo. Perché la storia che ci sta portando là penso a tutti gli acquisti online, tanto per dire una che ormai avvengono con quelle forme lì, ma penso a tantissimi tipi di pagamento. È la norma nei paesi nordici addirittura sali nell'autobus e paghi il biglietto con la carta di credito che sono molto comodi. È vero che ci può essere un tema delle spese, dei costi, poi mi dicono, io non so, magari il professore sa più di me che certi paesi in qualche maniera vengono incontro nel nord dell'Europa rispetto ovviamente alle spese appunto per favorire questo. Per cui questo è un aspetto che secondo me un governo dovrebbe favorire perché la tracciabilità al di là di qualcuno che poi pone il problema sulla privacy personale per cui uno deve sapere ma io credo che insomma se tutto è pulito io non ho problemi di privacy rispetto alla mia gestione di vita e di spesa anzi lo ritengo utile proprio nell'interesse comune di tutta la comunità dentro una visione di comunità non una visione personale. Infine su questo provvedimento io ritengo che noi siamo un paese diverso da molti altri paesi che la prima ministra accennava perché l'evasione fiscale e il lavoro sommerso qua nel nostro paese hanno punte altissime ed è chiaro che alzare il livello dell'uso del contante senza altro agevola a questo modo questo sì e poi ultima nota un po' così se vuole anche polemica io penso che sarà difficile vedere persone che vanno a fare acquisti con una valigetta di 5 o 10 mila euro in contante ecco senza altro non un lavoratore per cui il tema non è il tetto 1000, 2000, 3000 il tema è che comunque io non favorirei oltre una certa soglia l'innalzamento assolutamente no e favorirei invece l'uso della moneta di pagamenti elettronica di pagamenti elettronici magari venendo incontro ai problemi che ci sono anche per ovviamente i commercianti e quant'altro ecco questo sì grazie allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria poi ritorniamo a parlare di questo e di altro con i nostri ospiti a tra poco ancora insieme con Economa IFWG parliamo del limite all'uso del contante che insomma è c'è un ragionamento in piedi da parte del nuovo governo per innalzare questo questo limite che dovrebbe scendere a 1000 euro dal primo gennaio prossimo ma come abbiamo capito insomma ci saranno sicuramente delle modifiche vi faccio vedere questa tabella che è una tabella che riassume un po' quello che è stato il tetto in Italia in questi ultimi vent'anni quindi a partire dal 2002 eccola qua insomma vediamo che nel 2002 il limite era di 10.000 euro poi è salito a 12 è sceso a 5 nel 2008 poi è risalito a 12 poi è ritornato a 5 poi a 3 1000 euro insomma nel 2011 tra il 2011 e il 2015 3000 euro successivamente i 2000 euro che sono in vigore adesso e dal primo gennaio si dovrebbe ritornare ai 1000 euro che erano appunto quelli del periodo 2011 2015 ecco professor Miani c'è anche questa sorta diciamo un po' di schizofrenia da parte dei governi nell'andare su termini alti poi bassi e incentivare però l'uso della moneta elettronica dei pagamenti elettronici insomma si fa fatica a capire dove si vuole andare così perché è così importante questo tetto al contante? ma secondo me non è una cosa importante in assoluto è un pagliattivo se non ci sono altri strumenti per affrontare i problemi quindi se uno non è in grado di combattere l'evasione fiscale con gli strumenti classici va a cercare delle scorciatoie ma poi però questo produce anche dei danni soprattutto credo che sarebbe utile ragionare a livello di unione europea definire delle regole comuni almeno tra i paesi che hanno l'euro quindi abbiamo l'euro che è moneta legale in un certo numero di paesi dovremmo definire certi aspetti in comune per quello che riguarda l'uso della moneta tra l'altro in tempi ragionevolmente brevi comincieremo a avere anche l'euro digitale e quindi il problema dovrebbe essere inquadrato anche in questa prospettiva perché l'euro digitale è moneta legale se lo mette la BCE però è tracciabile quindi il problema come ci cambierebbe la vita questo? sostanzialmente si potrebbero fare i pagamenti direttamente in modo digitale senza probabilmente aver bisogno di un sistema di pagamenti oneroso perché trasferirsi semplicemente adesso bisogna vedere come lo farà la BCE ci stanno lavorando ma l'idea è di usare un po' le tecniche delle criptovalute ma su una valuta vera che quindi ha corso legale adesso probabilmente ci sarà una fase di sperimentazione ma ormai tutte le più importanti banche centrali stanno studiando la cosa la Fed la BCE la banca cinese insomma tutti i paesi sono abbastanza avanti su questo come mentalità dobbiamo tenere in conto anche che insomma siamo noi italiani molto legati al contante all'avere il soldo in mano in realtà ma non è vero io credo che siano più legati i tedeschi i russi c'è il mito dei russi che venivano prima in ferie con con tanti loro sì con la valigetta sì ma voglio dire è una questione un po' frutto anche di situazioni particolari e di contesti particolari ma noi abbiamo visto per esempio nel periodo del covid un aumento impressionante dell'uso dei sistemi di pagamento e perché la gente poteva muoversi evidentemente però eravamo estremamente arretrati rispetto agli altri paesi europei e lì siamo arrivati non dico ai livelli dei paesi nordici ma comunque siamo arrivati a un livello sostanzialmente prossimo alla media adesso che è venuto meno il covid vediamo cosa succede io credo che quelli che ci sono trovati bene nel farlo hanno tutto l'interesse a continuare il problema come dicevo prima è che se poi ci sono dei disincentivi di carattere fiscale o anche di carattere commissionale allora il discorso diventa difficile c'è anche da dire che le banche in un contesto di tassi negativi molto bassi hanno alzato un po' tutti i costi di tenuta dei conti eccetera per riuscire a chiedere bilanci teoricamente uno potrebbe dire faccio meno della banca che i soldi me li tengo in casa e uso il contante che ho in casa come voglio sotto il materasso però è difficile perché voglio dire lo stipendio te lo pagano in conto corrente ormai eccetera quindi bisognerebbe agire in modo coerente se si vuole ottenere qualche risultato bisogna che tutto vada in quella direzione non che la mano destra fa una cosa la sinistra fa il contrario che è quello che stiamo vedendo allora accennava prima il fatto di un'uniformità almeno a livello europeo di chi ha l'euro andiamo a vedere in questa tabella che cosa succede un po' nel resto dell'Europa per quanto riguarda il limite al contante insomma vediamo ci sono dei paesi che non hanno il tetto l'Austria che è una nostra vicina di casa come diceva anche la Premier Meloni c'è l'Estonia c'è la Finlandia c'è il Lussemburgo l'Olanda la Germania l'Ungheria l'Irlanda allora dobbiamo dire che ci sono due studi uno abbastanza recente della Banca d'Italia Pecunia Olet che mette in relazione un po' il fatto che all'aumentare del tetto al contante aumenti anche l'evasione fiscale poi ci sono altri studi che invece testimoniano come dove in questi paesi dove non c'è il tetto non è vero che ci sia un'evasione fiscale maggiore ecco sette sentiamo il professore poi sentiamo sette sono discorsi un po' di lana caprina secondo me nel senso che se noi prendiamo l'Italia l'evasione non è mica uguale dappertutto in Italia cioè l'evasione che c'è in certe zone è completamente diversa da altre ci sono delle zone dove c'è un tasso di occupazione molto basso verosimilmente c'è molta occupazione in nero che quindi lavora ovviamente con l'incontante perché e quindi sia a livello di stipendi di paghe come vogliamo chiamarle sia a livello di consumi gira molto più di contanti che in altre quindi quelli che sono assunti regolarmente difficilmente prendono lo stipendio in contanti e quindi sostanzialmente usano il sistema di pagamento poi potranno usare il banco ma qualche volta per andare al ristorante e non pagare farsi fare lo sconto voglio dire o andare a comprare qualcosa al mercato però sono cose meno significative in sostanza quindi il problema è di alcune comparti territoriali o anche forse settoriali ma penso più territoriali dove c'è un'economia sommersa secondo alcuni necessitata dal fatto che non ci sono condizioni economiche per tenerla a livello di mercato ma insomma questa è un po' una scusa secondo me perché poi all'interno di questi posti troviamo anche località turistiche famose eccetera quindi il problema è un po' culturale ma soprattutto di volontà di risolverlo sette proviamo a fare un ragionamento diverso cioè a chi potrebbe convenire invece perché può essere un bene alzare questo questo tetto e a chi può essere per chi può essere conveniente pur nell'assoluta legalità certo beh per esempio la questione della competitività effettivamente anche per la zona in cui ci troviamo noi la nostra regione a confine con l'Austria può essere un problema ma penso anche alle stazioni turistiche nostre insomma del nostro sia di mare che di montagna dall'Austria vengono a fare acquisti in Italia nella zona in cui ci troviamo qui nei nostri centri commerciali a nord di Udine evidentemente per gli austriaci 1000 euro è difficile da capire che oltre 1000 euro devono obbligatoriamente fare transazione appunto tramite sistema di pagamento tracciato ma anche nelle stazioni turistiche voglio per esempio così citare per svolgere un po' il mio ruolo di commercialista quella che è una deroga prevista dalla normativa a questo limite di contante per i turisti stranieri giusto per dare un po' l'idea di quelle che sono le normative no? Allora uno può purché residente non in Italia e non nell'Unione Europea fare un acquisto oltre il limite quindi ipotizziamo i 1000 euro del 2023 fino ad un massimo di 15.000 però il commerciante al minuto deve produrre una comunicazione preventiva all'agenzia delle entrate con un modello predisposto farsi dare un documento di identità acquisire un'attestazione di residenza non in Italia non nella UE quindi extra UE e l'indomani versare il conto in un conto corrente dedicato capiamo che insomma veramente complicato è complicato direi un po' un po' anche ridicolo nei confronti di turisti che arrivano dall'estero e che vengono a spendere insomma e poi anche la privacy può essere per uno che fa un acquisto di un certo rilievo potrebbe anche essere che non è che non vuol sapere le proprie vuol far sapere le proprie cose però può essere anche un acquisto particolare che appunto non vuol rendere pubblico per cui insomma ripeto anche in termini di competitività per la nostra zona effettivamente è un qualche cosa che stride insomma ecco così giusto per svolgere un po' anche il mio ruolo vorrei citare altri esempi per far capire che di fatto il limite del contante rientra in un ragionamento molto più ampio per esempio la deducibilità di tutte le spese mediche da un paio d'anni sono previste solo in caso di pagamento tracciato per cui se uno va dal dentista spende 200 euro e li paga in contanti non può detrarli non può questa è un'ingustizia ecco quindi questo è un altro elemento che fa capire che c'è tutto un ragionamento dietro affinché si arrivi a transazioni tutte tracciate che rientrano in una mentalità sono anch'io dell'opinione che insomma ormai si sta andando verso una comodità perché è anche comodo pagare tutto tracciato senza dover vado al banco matta insomma e quindi però evidentemente c'è poi anche un costo allora vorrei completare il mio discorso anche in termini di costi allora i costi delle carte di credito o comunque delle operazioni bancarie sono anche dei costi abbastanza rilevanti quando è nato l'obbligo del pagamento della carta carburante con sistema tracciato la normativa ha previsto un credito d'imposta perché bisogna dire dare le informazioni complete un credito d'imposta a favore dei distributori dei soggetti appunto che vendono che hanno queste attività a fronte degli incassi effettuati numerosi evidentemente tramite sistemi tracciati ecco questo è un buon esempio insomma di normativa complementare rispetto a un obbligo che viene imposto certo parliamo sempre di obblighi che non sempre sono corretti diciamo anche dal punto di vista etico è chiaro che l'ideale sarebbe avere una mentalità dell'opinione pubblica verso un certo tipo di rapporto con l'amministrazione finanziaria questo è corretto anche dirlo evidentemente se uno mi dice ma in Germania il limite è zero cioè non esiste limite sì però sappiamo qual è il senso di appartenenza che i tedeschi hanno e quindi dove in Germania i ragionamenti nei confronti del fisco sono completamente diversi devo dire anche dall'altra parte perché in Germania ma così anche negli Stati Uniti il rapporto con l'amministrazione finanziaria i controlli il dovuto è completamente diverso quindi voglio dire i ragionamenti sarebbero da fare a 360 gradi su una mentalità rispetto anche al proprio dovere di cittadino insomma ecco Pezzetta per quanto riguarda insomma i lavoratori a reddito fisso di fatto sono poco interessati da questo cambiamento nel senso che come diceva lei non va in giro con la valigetta ha il suo stipendio paga come diceva il professore più comodo naturalmente con il banco ma con le carte ecco questi lavoratori qui secondo lei si devono sentirsi insomma meno tutelati rispetto ad altri di fronte a questa questa innovazione non li riguarda magari dicono ma qua si agevolano i furbi e pagano sempre gli stessi o no? li può riguardare indirettamente vorrei dire perché se per effetto dell'inalzamento della moneta corrente si alza anche diciamo l'evasione fiscale lo Stato incassa di meno per cui magari ho meno servizi adesso faccio un ragionamento così largo è chiaro che tocca meno ovviamente il lavoratore dipendente ma io continuo a ribadire che l'uso della moneta elettronica dei pagamenti elettronici anzi è la strada a mio avviso maestra anche perché a me io rabbrividisco solo al pensiero ecco ammettiamola così che qua si togliesse un limite all'uso del contante come in Germania o in Austria non lo so penso che che il paese nostro con le attitudini che tutto sappiamo non credo ne beneficerebbe assolutamente per cui io ritengo che non cambieranno tante cose ecco dipenderà anche l'entità che questo governo qua se sono 10.000 euro un conto se sono 5.000 un altro io continuo a ribadire che ormai l'uso del pagamento elettronico è la strada maestra e tutti si sono attrezzati addirittura poi oggi paghi col telefonino sempre di più per cui quella sarà la strada piuttosto vorrei un governo che agevoli questo che mi agevoli ovviamente chi deve pagare invece un conto solo per tutte queste transazioni io gradirei di più una discussione su questo versante qua perché questi sono i costi veri che abbiamo noi e un'ultima cosa così io pensavo che una delle prime discussioni fosse anche a livello di governo bollette gas eccetera questo dei pagamenti insomma può avvenire anche un minuto dopo invece ho visto che è stato il primo elemento di discussione proprio anche a livello tutto il nostro è stato uno dei segnali diciamo che questo governo ha voluto dare subito come ne ha dati anche altri in altri in altri campi insomma molto molto chiari poi staremo a vedere anche insomma quello che succederà poi nel concreto ci fermiamo per la pubblicità poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti anche proprio del pagamento elettronico vediamo anche quello che succede su questo versante tra poco insieme con Economa IFWG insomma lo abbiamo detto un po' nel corso della trasmissione c'è un po' una guerra ideologica tra chi vorrebbe tutto pagato con transazione e chi invece vorrebbe un tetto molto più alto del contante ecco vediamo questo servizio perché sappiamo che insomma si può andare a pagare anche il caffè naturalmente al bar anche l'euro con la carta di credito con il Bancomat e nel caso dei tabaccai insomma è stato fatto un passo all'indietro perché diciamo che i costi per loro e lo diceva il professor Miani sono superiori a quelli che sono i guadagni alle volte quindi qui si è fatto un passo indietro vediamo in questo servizio i tabaccai non saranno più obbligati ad accettare i pagamenti con strumenti digitali come Bancomat e carta di credito per l'acquisto di beni come sigarette e tabacchi Marche da Bollo o Franco Bolli la novità è prevista in un provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un sospiro di sollievo anche per le tabaccherie della regione siamo contenti il problema è che noi come tabaccai lavoriamo con dei margini bassissimi addirittura facciamo servizi come le ricariche telefoniche con l'1% di margine pensare che poi magari un cliente ti paga con una carta di credito con una carta Bancomat che significa praticamente rimetterci lavorare in perdita perché abbiamo dei costi molto alti io non le nascondo che il mese di settembre un estratto conto del terminale Evoluto List dove noi facciamo tutte le operazioni di post pay ricariche telefoniche tassi automobilistiche ho ricevuto 300 euro di compensi a fronte di 600 euro di spese cioè ecco è triste sì è un primo passo ma rimangono le ricariche telefoniche rimangono le ricariche tutto quello che è ricarica ricariche post pay ricariche telefoniche ricariche di qualsiasi tipo insomma ogni volta che il cliente paga con Bancomat ci rimettiamo ci rimettiamo proprio non è che quindi chiedere di accettare i pagamenti Bancomat sì fa piacere perché diamo un servizio al cliente però non si può chiedere ai tabaccai di lavorare in perdita siete soddisfatti? eh beh sì perché la marginalità su questi prodotti è molto piccola quindi se dobbiamo pagare anche delle commissioni eh sì il nostro guadagno praticamente si riduce quasi anche a zero in certi casi e quindi va bene così ma la gente pagava paga più facilmente col post viene qui con contanti cambia qualcosa per voi? io per il cliente è una forma di comodità col post nel senso che non deve avere contanti questo d'accordo lo comprendiamo questo però è chiaro che anche dal nostro punto di vista sì siamo qua per lavorare per guadagnare alla fine dei conti magari poco però bisogna guadagnare da anni che praticamente noi vendavamo sempre i gratavinci non potevi rifiutarti e praticamente andavi a rimettere dei soldi anziché guadagnarli e lo stesso vale anche per le ricariche telefoniche che speriamo si faccia qualcosa anche lì perché perché ci troviamo veramente in difficoltà a dire di noi clienti che a certe volte devi anche litigare però non capiscono qual è il problema avvertivamo il cliente guardi è meglio in contanti però se non ha contanti facciamo col post c'era qualche cliente ma non cliente nostro fisso che diceva non sono cose mie arrangiatevi e allora lì io rimanevo un po' male perché sì non si risponde così ecco professor Miani forse il tema che lei aveva già toccato il nocciolo è proprio tutto qua insomma questo c'è qualcuno che ci guadagna ecco se c'è una comodità per qualcuno qualcuno questa comodità la deve pagare in questo caso insomma le attività le attività commerciali e forse anche per questo c'è un grande vantaggio affinché ci siano tante transizioni rispetto al contante ecco questo potrebbe essere un vantaggio per l'economia per la piccola economia che giri più contante da questo punto di vista ma diciamo che è un po' un cane che si morde la coda nel senso che le commissioni probabilmente un po' più alte in Italia che negli altri paesi vengono un po' giustificate dal fatto che ci sono meno transazioni digitali che negli altri paesi e quindi dicono visto che ce n'è poche dobbiamo mettere commissioni più alte se non l'infrastruttura per fare il servizio non sta in piedi e quindi se non si risolve questo aspetto rendere obbligatorio e oneroso diventa un po' vessatorio per quelli che sono costretti a soppercarsi questi costi e rispetto a quello che diceva prima la presidente dei commercialisti sì c'è un po' una simmetria però perché i benginai possono dedurre poi ci lamentano che non è sufficiente eccetera ma i consumatori no e quindi l'obbligo non è solo di accettare ma anche eventualmente di pagare adesso dipende magari il pieno di benzina non è ancora obbligatorio ma la tracciabilità dovrebbe essere favorita contro riciclaggio quindi non per importi di questo tipo ma dovrebbe essere favorita in generale perché è più comoda e quindi bisognerebbe far aumentare i volumi delle transazioni rendendole più convenienti da tutti i punti di vista comodità ma anche costo per cui se uno ogni volta che va a fare un pieno di benzina deve pagare una commissione oppure deve pagarsi una carta di credito che una volta le regalavano adesso costa 80 euro all'anno uno ci pensa e rinuncia quindi bisognerebbe fare un ragionamento un po' dico sempre in attesa dell'evoluzione dell'euro digitale che potrebbe essere la risposta che bypassa il sistema di pagamenti ma vedremo ma voglio dire anche c'è un discorso anche di evoluzione tecnologica nel servizio che avete fatto si parlava ricariche di telefonino ma le ricariche uno se le può fare del telefonino senza andare da nessuna parte senza nessuna commissione se vuole qualcuno magari non è in grado di farlo o non lo sa ma una volta che ha provato è anche vero che se uno va dal tabacchino per fare la ricarica telefonica poi magari compra il giornale o si compra il pacchetto di sigarette per dire no è un sistema anche il muoversi per girare il contante l'impatto della digitalizzazione però è abbastanza dirompente per cui anche giornali sempre più gente di legge digitali e non cartace quindi è un'evoluzione nel tempo la digitalizzazione che in Italia è stata un po' rallentata nel tempo il ministro Colau per dire che ha avuto l'incarico di cercare di fare con il PNR un tentativo di rincorsa ha prodotto tutta una serie di progetti che adesso dovranno essere attuati che dovrebbero farci fare un salto in avanti su questo punto di vista quindi alcuni aspetti potrebbero essere anche superati tecnicamente si si basta che i costi si riducano di pari passo la digitalizzazione serve ad abbattere i costi essenzialmente poi si possono avere altri problemi di sicurezza anche in un contesto come quello di quest'anno di guerra eccetera c'è anche quel problema lì però voglio dire dall'altro lato il fatto che l'inflazione sia ripartita rende anche meno conveniente tenere contanti adesso di là di quelli della spesa corrente ma se qualcuno immagina di avere soldi in contanti per attività insomma o per tesorizzazione eccetera ha un forte disincentivo dell'inflazione è certo e quindi anche lì in questo momento non è che ottiene grandi rendimenti neanche se li investe ma in prospettiva si dovrebbe tornare a un sistema ordinario dove i tassi di interesse reali sono bassi ma ci sono quindi lo scenario della BCE in questi giorni è sulla fine del 2024 che si ritorni a tassi positivi dell'inflazione quindi se riusciranno a controllarlo e quindi quello rimetterà un po' in discussione le cose perché alla fine è evidente che se le banche non ti danno interessi sul conto e addirittura devi pagarci sopra spese tutto sommato avresti quasi interesse a tenerti i soldi in tasca e spenderli al di là di qualsiasi altro spenderli è un altro discorso se uno li ha e piuttosto che si deprezzi non meglio spenderli sono due discorsi diversi nel senso che per l'inflazione al limite potrebbe essere meglio anticipare la spesa ma per i tassi negativi che abbiamo avuto in questi ultimi anni non conviene tenerli in deposito per dire se non sono remunerati e addirittura devi pagarci delle spese ma ci sono delle banche addirittura che hanno comunicato ai clienti che avevano depositi importanti che avrebbero sospeso il contratto perché poi quelle banche magari dovevano riversare questi soldi alla BCE un tasso negativo quindi non avevano interesse a far raccolta però diciamo che è stata una bolla molto più lunga di quello che si immaginava ma nella storia è un momento particolare anomalo perché non è molto logico che i tassi siano negativi è una situazione molto forzata da contingenze da manovre di politica economica e finanziaria su cui purtroppo c'è un grande punto di domanda al quale credo che non risponderemo questa sera il grosso problema è tornare indietro perché non è facile ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria poi sentiamo anche Sette Pezzetta tra poco Ultima parte di Economi FWG felici e contanti questo è il titolo che abbiamo scelto per la trasmissione di questa sera appunto parlando del tetto al contante di quelle che possono essere le novità per il prossimo anno Sette abbiamo visto anche nel servizio di prima i pagamenti digitali portano un costo cosa dicono i clienti anche che a chi ha le attività insomma comincia a essere un peso? Permettimi di dire questo provvedimento è uno dei classici provvedimenti contraddittori e soprattutto dove la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra perché adesso rendere non obbligatorio appunto l'utilizzo dei sistemi di pagamento nei tabacchini in realtà fa nascere il problema in cui può capitare che questi soggetti dicano di no a chi vuole e quindi insomma mi pare molto contraddittoria la cosa e anzi diciamo che può creare dei problemi perché obiettivamente insomma se uno va a fare adesso in tabacchino si fanno anche i bolli delle auto se deve fare un bollo da 300 euro credo che abbia tutto il diritto di pagare sì forse la ricarica telefonica magari è chiaro che il margine ma è lo stesso problema come i distributori di carburante e allora io dico che anche in quel caso lì devono poter rendere appunto un credito d'imposta anche nel loro nel loro caso secondo me risolverebbe il problema di entrambe di entrambe le parti insomma ecco sì effettivamente il costo di questi conti correnti la presidente il presidente ha detto che penalizzati sono i poveri intendendo evidentemente i dipendenti insieme a coloro che hanno dei normalissimi conti correnti non a fronte di un'attività è evidente che il sistema deve prendersi carico di queste di queste situazioni e rendere insomma molto meno oneroso perché se dobbiamo arrivare ad un certo risultato tutti devono fare la loro parte e appunto anche l'amministrazione finanziaria lo Stato deve svolgere un ruolo di guida di guida e questo è fondamentale altro tema che le sottopongo se c'è un limite al pagamento in contanti c'è anche un limite a quello che è il prelievo insomma dalla banca non è che nessuno può andare in banca si può farlo ma insomma lo deve giustificare per elevare 50.000 euro ecco anche da questo punto di vista com'è la gestione diciamo dei prelievi questo meriterebbe un'altra puntata su questo argomento è un argomento molto delicato che riguarda tutti coloro che hanno attività ma anche coloro che non hanno attività tutti i prelievamenti devono essere giustificati oltre a quella che è l'ordinaria gestione per la propria il proprio vivere diciamo quotidiano e quindi ci sono dei controlli che richiedono assoluta giustificazione di tutte le movimentazioni ricordo che oggi come oggi le banche segnalano tutto cioè inviano tutto tutto è tracciato ricordo che le banconote da 500 sono tutte catalogate quindi si riesce a risalire a tutto il percorso per cui capiamo bene che c'è dietro un ragionamento a lungo termine su tutto quello che è sono i movimenti finanziari evidentemente e lì i controlli da chi possono arrivare? i controlli possono arrivare sia dalla guardia di finanza che dall'agenzia delle entrate dipende se un soggetto è un soggetto privato o un'attività entrambi naturalmente chiedono possono chiedere una volta c'era il redditometro ma voglio dire dietro l'angolo c'è ancora evidentemente se uno ogni tanto si sente aveva 20 case una dichiarazione di redditi da 1000 euro è evidente che insomma tutto deve essere dimostrato coloro che per esempio che fanno l'ISE hanno tutto controllato in quel caso la guardia di finanza controlla e ogni tanto si riscontrano dei casi dove c'erano delle situazioni non adeguate per cui insomma questo del limite al contante forse è l'ultimo dei ragionamenti riferito a tutti quelli che sono le movimentazioni finanziarie che vengono fatte limite al contante mondo del lavoro pezzetta come si come si sposa anche il lavoro che magari insomma alle volte non è regolare sì volevo dire anche che il ministro perché mi pare che abbia detto che così vuole essere chiamata quando ha posto il tema come lei sottolineava del fatto che si alza il tetto per venire incontro la gente più povera io credo che ci siano tanti altri strumenti per venire incontro le persone che hanno davvero bisogno oggi noi abbiamo un problema già lo avevamo dei salari bassi siamo tra i salari più bassi d'Europa c'è il problema dell'inflazione che ovviamente per chi ha reddito fisso sappiamo che è devastante ed è chiaro che per tutte queste persone qua più che il problema del tetto al contante è il problema di come arrivare a fine mese poi con le caro bollette e quant'altro che c'è per cui io dico che se bisogna intervenire bisogna intervenire su questi temi qua secondo me ma detto questo è chiaro che il lavoro in nero soprattutto anche in alcuni settori tutto il tema viene spesso pagato col contante perché non è rintracciabile poi affinano anche con altre metodologie ed è per quello che dico che per le caratteristiche che almeno storiche è l'alto livello di avversione fiscale che al nostro paese io credo che bisognerebbe fare una lunga lotta sia culturale sia ma anche proprio degli organi e degli organismi preposti poi al controllo che oggi sono stati in questi anni addirittura ridotti nelle loro potenzialità e andrebbero potenziati oltre a un senso civico che tante volte è mancato questo è poi quello del tetto come dico è un tema che per i lavoratori credo sia molto relativo anche se in ultima analisi anche per credo che anche la gente preferisca non andare in giro con tanti soldi in contanti anche questo bisogna dirlo cioè se io devo andare a fare una spesa è difficile che vada con 2000 euro in contanti nel taccuino perché se li perdo li ho persi e poi è innaturale oggi sono i pagamenti elettronici se poi dobbiamo venire incontro alle spese che sia l'utente che sia anche il gestore i servizi devono andare incontro questo sono d'accordo e andrebbe approfondito Sette ma volevo così lasciare un altro messaggio noi abbiamo parlato molto di evasione fiscale quindi di problema legato alle entrate per lo Stato però io direi che quello che preoccupa forse di più è anche la questione dell'antiriciclaggio cioè quello è un argomento in cui qualche riflessione si dovrebbe fare da dove vengono quei soldi di fatto sì quindi insomma è chiaro che un limite il contante indipendentemente dall'importo che poi viene diciamo individuato ha un ruolo nella lotta contro il riciclaggio insomma noi stessi come professionisti abbiamo obblighi di antiriciclaggio di controllo di segnalazione in caso di operazioni sospette quindi insomma in quell'argomento lì ecco lo vedo importante e comunque giusto per concludere le normative quando si fanno è chiaro che non riescono mai a dare risposte adeguate a tutti i problemi individuare un importo allora eliminarlo no io sono contro l'eliminazione ma a favore dell'individuazione di un importo adeguato sentiamo voi tre insomma che importo fissereste sette ma io credo che i 5.000 siano un importo adeguato tenendo conto di tutti i pro e contro 5.000 pezzetta no io starei sui 1.000 e 2.000 1.000 e 2.000 professor Miani così facciamo concludere a lei anche con una battuta insomma sul versante dell'antiriciclaggio è una battuta che faccio io è che non metterai nessun importo però metterei in galera quelli che fanno violazioni e li lascerei lì 100.000 anni perché non c'è la pena di morte altrimenti forse opterei per quello anche se è brutto dirlo ma lo dico perché sono convinto cioè è inutile fare regole tra regole e poi tanto non si applicano e uno fa quello che vuole tanto è sempre fuori allora non siamo credibili no? sì sì quindi pene diciamo un po' più severe a fronte di non esserci limiti quindi un po' anche il senso di responsabilità poi delle persone però in Italia c'è un problema di credibilità è inutile mettere il cartello 30 all'ora sapendo che uno può andare a 50 se è 30 all'ora uno va a 30 all'ora basta non ci sono deroghe invece noi siamo ridicoli no? diamo il cartello e poi prima 10 km in più è tollerabile il resto vediamo discutiamo non c'è niente da discutere si fa una regola bene fatta basta e si fa rispettare e si fa rispettare e soprattutto insomma speriamo di andare anche in quella direzione però è un problema è un problema culturale perché siamo noi che non facciamo rispettare le regole non è neanche la polizia o il giudice siamo tutti che non facciamo rispettare è la cultura che ma sì ma più o meno ma dai ma vogliamoci bene vogliamoci bene niente decidiamo le regole magari non mettiamo 30 all'ora mettiamo 50 ma 50 100 101 multa ma no multa molto peggio va bene grazie a professor Miani grazie a Micaela Sette presidente dell'Ordine commercialisti di Udine grazie al segretario della CGA del Fulimenezia Giulia William Pezzetta per essere stati con noi grazie anche ai tecnici in regia Simone Caramaschi e Martina Beraldo ci fermiamo qui grazie a voi per averci seguito Economai FVG ritorno giovedì prossimo buona serata a tutti grazie a tutti